Bella ragazzi, eccoci con un nuovo appuntamento di Lonewolf92 su Virgin Gaming Oggi sfidiamo un americano che è Neymar93 oppure Yu-Akri29 E tra poco accetterà, adesso aspettiamo, intanto vediamo cosa scrivono in chat Alcuni player che cercano le sfide senza giocare contro Real Madrid e Bayern Monaco Ma molti non li accettano Vediamo infatti che ha accettato con 8 dollari in palio E io vi consiglio comunque di non giocare su Virgin Gaming contro gli americani Perché la connessione è molto brutta e quindi molto spesso dà un po' fastidio Ma adesso andiamo subito in partita, siamo al terzo minuto con Cristiano Ronaldo sulla fascia Contro Pepe, attenzione Ronaldo rientra con un'ottima finta Passa in mezzo a due, attenzione Ronaldo la mette dentro Garrett Bale di testa Subito 1-0 per noi Che giocata Ronaldo Che giocatore E di testa Bale a porta libera, non può che metterla dentro E adesso siamo al sedicesimo minuto però Benzema Di Maria Ancora Benzema Di Maria Un'azione tutta di prima Attenzione Ronaldo ancora bellissima Ancora per di Maria Ronaldo di prima 1-0 pari Azione velocissima da parte del player americano In questo caso non siamo riusciti a fermarlo in difesa Bellissima azione come potete vedere E Diego Lopez non può che prendere il gol E allora siamo di nuovo 1-0 pari Adesso proviamo a riprenderci Con Marcelo sulla fascia Attenzione Benzema Si ferma Attenzione ancora Benzema Per Marcelo Modric Prova una finta Modric Vede subito in mezzo Ronaldo Anticipato da Pepe E allora siamo al trentunesimo minuto Ancora Di Maria Di Maria Vince un contrasto Di Maria contro Ramos Fa una finta Lo salta Ancora Di Maria Contro di lui c'è Fabio Contrao Di Maria rientra ancora una volta C'è spazio per lui Di Maria Tenta il tiro 2-1 Tutto campo per Di Maria Grandissima giocata E in questo caso Non ha potuto lui fermarci La palla passa in mezzo alle gambe a Pepe E così Casillas non la vede proprio E siamo così al trentaquattresimo minuto Ancora Modric Con palla al piede Modric Vede Ronaldo Fa una finta Ronaldo Un'altra finta Attenzione I due difensori si scontrano Ronaldo subito Due pari Ma cosa fanno i due difensori Si schiantano come due macchinine Guardateli Che tira con Ramos Così Ronaldo Tanto ho fatto anche L'effetto sonoro E adesso Siamo al quarantacinquesimo minuto Sicuramente qui Fischierà la fine del primo tempo E di fatto è così Le squadre tornano Negli spogliatoi Partita molto difficile Condizionata anche un po' Dalla connessione Però diciamo che questo è uno dei migliori Perché Va Discretamente Allora Marcello però Modric Attenzione Ronaldo Un po' affortunato Tenta il tiro subito Di prima E riendiamo in vantaggio Così 3 a 2 Il cinquantaduesimo Dice Calmi calmi Io vinco i contrasti E i rimpalli Qui un po' affortunati Siamo stati In questa occasione E allora Siamo sul 3 a 2 87esimo minuto Poi Attenzione Di Maria Passata in alto Per Bale Che la mette dentro Ma Diego Lopez La prende E allora Facciamo passare qualche secondo Però adesso ripartiamo Garrett Bale L'azione si velocizza Fabio Contrao Attenzione Ancora Contrao La mette in mezzo Per Bale Bale vede Benzema Che si gira Attenzione Benzema Con una finta Tenta di passare Ma viene fermato Contrao però sbaglia C'è che tira di fuori Tenta il tiro Parata di Casillas E allora calcio d'angolo Lukas Modric La dà Bale Attenzione Bale La mette dentro C'è Cristiano Ronaldo Da solo di testa E chiude qui la partita 4 a 2 E finisce qui Intanto Avete visto come Ho velocizzato l'azione Con la mia lingua Prima E ha portato fortuna E quindi 4 a 2 E ci portiamo a casa Questo gruzzolettino Vi ringrazio tutti ragazzi Per avermi seguito anche oggi Ci vediamo con la prossima sfida Grazie a tutti per la prossima sfida Grazie a tutti per la prossima sfida